Negli studi di TV City la consigliera Alessandra Tabernacolo, novità in vista rispetto anche quest'anno ad una apertura anticipata della stagione balneare. Quando si partirà? Anche quest'anno come l'anno scorso partiremo il primo maggio, una cosa che non è mai successa e solo a Torre del Greco anticipiamo grazie alla destagionalizzazione le attività dei lidi e quindi potremo partire in anticipo. Questo è fondamentale e si inserisce anche nelle ultime notizie del decreto 1000 proroga che hanno permesso ai concessionari una proroga di un anno e che leggevo proprio in questi giorni permetteranno al di là delle ordinanze comunali e regionali la possibilità di mantenere l'installazione delle strutture facilmente rimovibili. Quindi parliamo di gazebi, parliamo di cabine, parliamo di chioschi, quindi loro potranno rimanirli fino al 31 dicembre 2023. Un vantaggio notevole? Sì, un vantaggio notevole proprio in virtù del fatto che non sappiamo quale sarà il destino dei concessionari e quindi di tutta l'attività legata alla balneazione, ma non legata al comune di Torre del Greco, parliamo proprio a livello europeo. Naturalmente l'apertura anticipata a maggio della stagione balneare complice il tempo e sicuramente un incentivo per la ripresa anche delle attività commerciali penalizzate negli ultimi tempi. Quando ho scelto la delega al demanio l'ho scelta proprio per questo, perché è stata una delega mai considerata, non c'era neanche un ufficio nel comune che si occupasse specificamente del demanio, quando invece il demanio rappresenta per la nostra città sia una risorsa ma anche un volano. Abbiamo cercato anche di aggiornare il SID, che è il portale proprio del mare, che ci ha permesso una mappatura delle aree demaniali del comune. In questo modo il Ministero ha una visione chiara e precisa delle nostre aree demaniali e questo ci permetterà anche di avere una facile impalcatura per i futuri bandi che riguarderanno proprio le aree demaniali. Quindi in questi cinque anni tante cose sono state fatte in questo settore? Attualmente il settore del demanio da me rappresentato è intervenuto anche sul PUAD, che è il piano di attuazione delle aree demaniali all'indirizzo turistico e ricreativo. Il 6 marzo invece abbiamo inviato in regione le osservazioni che riguardano questo piano, che è fondamentale. Lo abbiamo fatto attraverso un tavolo di concertazione con le categorie del settore. Questo piano è fondamentale e si pone secondo me al centro di due importanti interventi che riguarderanno la nostra città. Da un lato il collettamento dell'acqua e refre e dall'altro il progetto legato alle scogliere. Il PUAD è fondamentale perché? Perché noi siamo un'area costiera e questo piano ha all'interno dei requisiti fondamentali che permetteranno non soltanto di stabilire la percentuale di aree gratuite e libere di ogni comune ma anche di attribuire, proprio come per gli alberghi, delle stelle agli stabilimenti balneari. All'interno del PUAD i 60 comuni sono anche classificati in base alla balneazione, in base allo sviluppo turistico e alla qualità della costa e il comune di Torre del Greco rientra nella categoria B1, cioè praticamente nei comuni ad ordinare a valenza turistica. Nel marzo 2022 la Regione ha espresso una manifestazione di interesse che permettesse di conciliare demanio e di inclusione sociale. Abbiamo presentato il progetto come demanio e proprio ieri è stata firmata la convenzione con la Regione Campania perché il progetto ci è stato finanziato per l'importo di circa 73 mila euro. Cosa prevede questo progetto? Questo progetto prevederà non soltanto strutture ma anche servizi di sostegno ai diversamente abili. Quindi che cosa abbiamo favorito? Abbiamo favorito sia l'accesso che l'inclusione dei disabili sulle spiagge cittadine. Ci tengo ad aggiungere due cose. La cosa principale è che proprio ieri ho chiuso la validazione del progetto di cui ho la maternità e di cui sono molto fiera, quello che riguarda la mitigazione, gli interventi di mitigazione dell'erosione costiera e di riqualificazione ambientale del litorale di Torre del Gresco. Perché quando parliamo di bagnabilità noi dobbiamo parlare anche di spiagge. E il mare invece stava depauperando le spiagge e quindi di che cosa volevamo parlare? C'era la necessità proprio di un ripascimento e con questo progetto avremo un ripascimento naturale delle spiagge e della costa torrise. Sono entusiasta perché il progetto è stato finanziato per 13 milioni di euro dal CIS. Un lavoro che non si vede ma che alla lunga porta i suoi frutti. Sì, infatti questa è una soddisfazione proprio a conclusione di questi cinque anni e del mandato. Poter dire di aver realizzato qualcosa e di non aver soltanto detto ma anche fatto. Tengo anche di ringraziare la dirigente che mi ha seguito in tutto questo periodo, la dottorissa Claudia Sacco. Mi dispiace solo di non essere riuscita a realizzare un progetto che avevo invece finanziato con l'Avanzo a causa del lacheraggio. Il progetto riguardava la passeggiata del Cristo Redenture. Quella passeggiata sarebbe stata illuminata e riqualificata. avrebbe permesso quindi un recupero dell'aria che attualmente invece è un po' buia. Ma ciò non toglie nel futuro che possa essere realizzato per la nostra città insieme al porto.